Il Partito Democratico, volta pagina in Abruzzo, oggi l'ufficializzazione del nuovo segretario Michele Fina, si parte per una nuova avventura, per un PD che vuole ripartire per tornare al governo della regione? Sì, intanto un PD unito, per la prima volta abbiamo fatto uno sforzo di dialogo, di confronto e poi appunto di unità, non unità finta perché è un'unità per il cambiamento, cambiamento radicale, abbiamo bisogno di reinventare il nostro partito, ricostruirlo, riportarlo nelle zone del lavoro, della sofferenza, in tutti i comuni e poi restituirgli un pensiero politico perché sia veramente alternativa al governo nazionale di Salvini e alternativa al commissariamento dell'Abruzzo con Marsilio. Un PD umile che sia in grado di mettersi in rete con gli altri, oltre il nostro partito, non solo le forze politiche ma anche quelle sociali, culturali, ambientaliste e un PD che abbia le idee chiare. Io penso a tre cose fondamentali, un partito verde, un partito del sapere e soprattutto un partito del lavoro perché noi abbiamo bisogno di essere popolari, cioè di restituire dignità e forza a chi è ultimo o ai ceti medichi indeboliti e non populisti, cioè strumentalizzare la sofferenza, la distanza senza poi dare vere risposte. Quindi lavoreremo soprattutto su questo, c'è una nuova generazione intorno a me che ha voluto fare questo passo, accettare questa sfida. Sono davvero contento di dare una mano perché davvero dobbiamo essere un noi e non solo una somma di personalismi che inutilmente litigano. Si riparte anche dopo risultati elettorali negativi nella nostra regione? Sì, risultati elettorali negativi ma anche un'esperienza positiva di ricostruzione con le elezioni regionali e con Giovanni Legnini, quindi noi abbiamo le forze per ricominciare. Certo appunto cambiando tutto, cambiando tutto tra noi e nel rapporto tra noi e la società, è un lungo percorso ma sono contento che sia così perché c'è bisogno di ritrovare identità, radicamento e anche appunto passione, sincera passione politica. Abbiamo bisogno di tempo ma lo impiegheremo tutto utilmente e recupereremo credibilità verso i nostri cittadini.